Stefano De Simone hai festeggiato bene il compleanno, quella valida che alla fine è risultata decisiva. Sì, sì, ho avuto qualche problema, sto avendo qualche problema dall'inizio del campionato in battuta, però nel turno in cui serviva essere il concentrato possibile sono riuscito a trovare una valida che alla fine si è rivelata decisiva per vincere. Diciamo che sarebbe bello festeggiare tutti i compleanni così. Senti, il Nettuno che affronterete la prossima settimana sta diventando un fattore forse non previsto all'inizio del campionato, un gerone più equilibrato di quello che si pensava. Equilibrato lo sapevamo già perché Nettuno è una squadra che non molla mai, ce l'hanno proprio nei geni i ragazzi di Nettuno di giocare fino all'ultimo sempre tutte le partite contro chi siano gli Yankee, chi siano il Godo, giocano sempre tutte le partite al 100%, anzi al 120%. Sappiamo che loro sono giocatori che non mollano mai, sono giocatori che sono difficili da battere, però il nostro obiettivo naturalmente è battere anche loro perché la corsa la facciamo su di loro, ma la facciamo anche su Rimini e la facciamo anche sull'altro Nettuno. Per il momento quasi perfetto equilibrio nel gerone, il Parma come sta? Una squadra che ha cambiato poco, si è in teoria rinforzata in battuta con imperiali. Il Parma adesso sta facendo fatica, in certi aspetti dobbiamo tornare al Parma che era alla fine della scorsa stagione, stiamo lavorando, con Pepita e con i suoi coach stiamo lavorando tantissimo, io l'ho sempre detto siamo una squadra che si allena come nessun altro in Italia e sicuramente arriveranno i risultati, adesso gli errori che stiamo facendo sono dati dall'inesperienza che purtroppo è una delle nostre caratteristiche, però stiamo cercando di imparare dai nostri errori, impareremo e sicuramente diventeremo la squadra che eravamo alla fine dell'anno scorso e anche meglio.